Quando voi pensate tre cose. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB domanda. Alcune volte quando vi chiediamo una cosa, ci rispondete una cosa diversa. Come succede questo se potete leggere nei nostri pensieri? Entità Emanuel. Succede perché quando pensate non lo fate in maniera precisa. Non avete un pensiero educato, ovviamente perché non avete fatto degli esercizi che vi aiutano in questo. Allora, quando voi pensate tre cose, noi ci troviamo in difficoltà, perché siete voi che create queste interferenze nella nostra lettura. Quindi noi leggiamo tante cose e cerchiamo di sommare da questa somma, trarre una conclusione che potrebbe sembrarvi errata. Comunque, noi le tendenze generali vostre, di ognuno di voi, le sappiamo, leggendo nell'intimo vostro. Ma quando formulate una domanda, spesso non pensate alla domanda. Cominciate già a pensare alla risposta. O pensate addirittura ad altro, quando la ponete. A volte succede anche questo. E questa è la ragione per cui ciò che avete rilevato può avvenire. Può accadere anche in via molto rara che vi siano dei disturbi legati ad un'orchestrazione non precisa dei singoli fluidi componenti la catena medianica. Grazie a tutti.